Allora, benvenuti al quinto incontro, quindi il quinto video, dove questa volta vedremo come fare delle texture un po' più complicate e in particolare cercheremo di fare un pianeta, un pianeta, la luna in questo caso, in realtà è un satellite e lo faremo usando un pacchetto che ho reso disponibile sul marketplace però subito dopo vi spiegherò anche più o meno come si fanno a costruire gli elementi semilavorati almeno alcuni, insomma, per poterci lavorare sopra Allora, innanzitutto, qui ne abbiamo detto, andiamo a procurarceli sul marketplace quindi cosa facciamo? Andiamo in modalità build, B poi andiamo M marketplace e qui cerchiamo planet e planet makers questo qui è il pacchetto che se cliccate vedete che dentro c'è una sfera che sarebbe il nostro pianeta e poi ci sono altre texture che sono una texture diffuse, questa una texture mask, che sono una specular mask, una specular map in particolare e una normal map queste sono messe insieme, ci possono aiutare a costruire un pianeta quindi compriamo il nostro kit ok, quindi questo kit adesso sappiamo dove andarlo a prendere perché ce lo troviamo nel nostro inventory quindi B, library dovremmo avere un planet makers, eccolo qua Allora, planet makers abbiamo una mesh allora, questa mesh, prima cosa, la prendiamo e la mettiamo per terra questo qui è un pianeta ho fatto click, poi faccio escape e poi andiamo in move anzi, selezioniamo e ci otteniamo un po' in su ok allora, a questo punto quello che manca è di riuscire a costruirci un un qualche cosa che abbia il diciamo queste texture sopra allora lo facciamo in maniera progressiva nel senso che andiamo sempre nella nostra libreria e qui creiamo in realtà un materiale quindi impariamo come creare un materiale il materiale è un po' lo strumento dove andiamo a depositarci un insieme di texture e di proprietà dell'oggetto quindi creiamo questo materiale questo materiale lo chiamiamo materiale pianeta ok per il momento facciamo ok quindi questo materiale vedete che è definito in modo tale da poter avere una texture diffusa nella texture diffusa noi gli mettiamo che cosa? la foto della luna questa qui vedete che l'ha trovata perché viene dal marketplace, viene da planet makers quindi è proprio lei gli mettiamo la foto della luna ora questo materiale l'abbiamo chiamato materiale pianeta magari gli cambiamo anche nome quindi facciamo tasto destro facciamo edit metadata materiale invece che pianeta lo chiamiamo luna ok? così si trova un pochino meglio materiale luna ora a questo punto gli abbiamo messo la foto della luna chiudiamo ok salviamo poi andiamo a selezionare la nostra sfera che rappresenta la luna eccola qua andiamo nell'oggetto e poi andiamo nelle proprietà della mesh a specificare il materiale e nel materiale gli mettiamo cerchiamo luna ecco il materiale luna vedete ecco avendola messo il materiale della luna sulla sfera UV gli abbiamo messo il materiale luna adesso non c'è niente di customizzabile andiamo vicino e vediamo che questa è tranquillamente una luna così come potrebbe essere fatta anche in second life vedete che sono i crateri eccetera ma noi adesso vogliamo andare un pochino più avanti quindi prendiamo questo questo oggetto questa luna che abbiamo fatto e la duplichiamo quindi cosa facciamo? facciamo un copy duplichiamo la luna qui adesso lo facciamo più che altro per motivi didattici faremo tre materiali ma a voi ne basterà farne uno solo che è quello finale ma adesso lo faremo per vedere le differenze fra i tre materiali quindi abbiamo visto che c'era un materiale luna quindi noi adesso andiamo nella nostra libreria il materiale luna questo lo duplichiamo e lo facciamo diventare materiale luna chiamiamolo 2 ok? perché nel materiale luna 2 vogliamo metterci non soltanto la texture diffusa ma vogliamo mettere anche la normal map quindi mettiamo la normal map e vedete che di normal map ne abbiamo una sola nell'inventory abbiamo questa qui che vedete che è tutta violetta che viene dal planet makers la prendiamo e gliela assegniamo giusto? quindi facciamo save ok abbiamo quindi le due sfere le due sfere cioè i due pianeti le due lune vedete che sono attualmente identici questo perché sono collegate allo stesso materiale che si chiama materiale luna se clicco su questo materiale luna tanto quanto ma noi adesso abbiamo messo un luna un materiale della luna un pochino migliore quindi qua se scriviamo luna abbiamo materiale luna 2 quindi vedete che qui abbiamo questo qui che è leggermente diverso vedete non lo dobbiamo vedere in lontananza vediamo che è leggermente diverso perché qua dove qui vediamo semplicemente una struttura piatta di qua vediamo che invece c'è un effetto di rugosità questa rugosità è proprio l'effetto dato dalla normal map quindi c'è un semplice effetto testuale adesso poi si può vedere meglio seguendo le cittadini altre luci però vedete che gli dà comunque una notevole ecco qua da qua con questa luce radente soprattutto con le luci radenti si vede che ha un valore insomma poter mettere la normal map quindi normal map danno comunque una struttura di dettaglio alle superfici adesso noi cosa facciamo prendiamo ancora questo oggetto lo duplichiamo un'altra volta perché vogliamo aggiungergli quello che è una specular map e per farlo dobbiamo fare un po' come abbiamo visto prima cioè andiamo nel nostro libreria vi ho materiale 1,2 facciamo un duplicate e facciamo materiale l'1,3 diciamo 3 perché c'è tutte e 3 c'è anche la specular map allora materiale l'1,3 oltre a mettergli messo la diffuse e la normal map gli metteremo a questo punto vediamo un po' se riusciamo a farla allora la mask andiamo a mettergli la maschera direttamente con l'1 quindi no sarebbe questa vedete sempre da planet makers abbiamo questa maschera e gli mettiamo anche come maschera questo oggetto quindi salviamo quindi abbiamo materiale l'1,3 che si comporta in questo modo chiudiamo qui andiamo nell'oggetto e nei materiali lo colleghiamo al materiale l'1,3 quindi a questo punto quello che succede è che in teoria abbiamo aggiunto anche una specular map quindi cosa vuol dire che questa cosa qua qualcosa riflette però nella versione di default qui riflette abbastanza poco quindi si vede pochino l'effetto perché il default è abbastanza poco pronunciato quindi per vederlo un po' meglio lo esageriamo un pochino quindi andiamo nel nostro materiale quindi andiamo in edit del materiale l'1,3 e qui cerchiamo di esacerbare un pochino abbiamo detto la maschera è questa offset eccetera cerchiamo di mettere un po' più forte l'effetto della quindi praticamente aumentiamo il potere ecco vedete che tra l'altro facendo così si vede quanto l'effetto vedete che diventa un po' tipo tipo ecco così diciamo che diventa il massimo effetto possibile no? e poi qui si può ok allora qui abbiamo amplificato questi effetti perché qui la parte speculare è un pochino delicata perché occorre associarla fondamentalmente a una maschera perché se non si se si dice che le maschere non ci sono allora lui assume un valore di default quindi questo qui agisce indiscriminatamente su tutta la superficie senza controllo se invece qui lo soffermiamo su una maschera e in questo caso prendiamo una maschera ad esempio red vedete che ha un effetto che in cui è importante e quindi qui possiamo anche mettere red ok in cui è importante la maschera che mettete perché se qui la maschera ad esempio la ruotiamo vedete che si ottiene un effetto diverso nel senso che quella maschera ha un impatto quindi cosa facciamo mettiamo abbiamo associato la maschera appunto e vengono imprese la parte rossa di questa maschera che essendo la maschera in bianco e nero quindi prendiamo le parti qui diciamo che le parti adesso non mi ricordo più se nere riflettono di più delle parti bianche vedete che in effetti risultano più riflettenti le parti nere della maschera e probabilmente quello che si vorrebbe fare è il contrario cioè di fare in modo tale che siano le parti bianche riflettere di più però già questa cosa vi permette di capire che il modo in cui io coloro la maschera mi controlla praticamente la percentuale di riflessione no ok quindi qua intanto per dimostrarvi dunque se io tolgo completamente la maschera e quindi qui vinco a nonne ok qui ottengo una riflessività questa che è generalizzata per tutto l'oggetto quindi per avere una una valenza che si applica praticamente a seconda del colore occorre poi applicare questa famosa specular map ma su questo possiamo poi fare ulteriori indagini adesso la cosa importante servessero per capire che esiste differenza tra l'oggetto normale come si trova in second life oppure l'oggetto in cui è associata una normal map che vedete ha già migliorato oppure un oggetto in cui è anche applicata una proprietà di riflesso c'è una specular map ok e tutto questo l'abbiamo fatto applicando dei materiali in un certo modo ora la cosa importante però è capire come poter produrre queste normal map cioè se voi avete un'immagine quindi qui salviamo se voi avete un'immagine qualunque dovete essere in grado di produrre una normal map io come ho fatto a farla mi sono preso la texture che avevo applicato quella diffusa e poi ho usato un filtro mappa che consente di costruire una dunque una normal map la normal map questo qui è un plugin che non c'è di default su Gimp Gimp cliccandolo praticamente riesce a darmi la possibilità di poter costruire una mappa ecco mi fa dare una preview 3D quindi qui mi fa vedere come verrebbe vedete che così posso controllare l'effetto l'impatto e posso a questo punto scegliere il valore quindi posso alterare questi valori e vedete che alterando i valori qui comparino gli effetti ecco vedete ad esempio questo qui direi che è il massimo questo qui è una normal map che mi dà questo genere di effetti quindi questi rilievi questa cosa la posso fare su qualunque immagine che può essere messa in rilievo l'importanza di questo plugin è che consente di generare una normal map basandosi su il colore quindi generare qualcosa di realistico in maniera umana per fargli generare effettivamente questa cosa basta dargli ok e qui ho ottenuto effettivamente questa mappa che a questo punto posso salvare quindi faccio file save as e me la salva come un'immagine normalissima che poi devo fare su cui poi devo fare l'upload e l'upload lo faccio sempre dal build library upload e qui posso dirgli di tirare su una normal map che mi ero costruito ad esempio normal vediamo un po' se riusciamo a trovare ecco l'una normal questa vedete l'una normal me la fa vedere adesso me la prende come texture vedete però se io voglio dirgli che è una normal devo dirgli appunto normal e a questo punto posso fare l'upload in quanto normal ok quindi qui mi dice dove devo mettere poi faccio l'upload qui mi fa delle dimensioni quindi io posso tranquillamente fare l'upload e la normal per quanto riguarda invece il fatto di produrre una specular map la cosa normalmente che si fa è di prendere l'immagine quindi prendiamo facciamo undo normal map prendiamo l'immagine di base questa immagine di solito si cerca di trasformare in bianco e nero quindi ci dovrebbero essere delle trasformazioni comunque c'è una possibilità che ok allora si trova sotto image image mode image mode grayscale così abbiamo soltanto bianco e nero e poi abbiamo la possibilità di abbiamo detto che bisogna invertire i colori perché ecco in maniera tale da rendere più riflettenti le parti nere che sono queste qua per dire e quindi rendere un po' più opache queste parti allora a questo punto facciamo salviamo anzi lo dobbiamo fare un export quindi file export non text zero lo chiamiamo specular map chiamiamola last finale export a questo punto torniamo nel nostro posto facciamo un upload questa la togliamo e gli facciamo per data bene gli mettiamo la nostra specular map last questa e questa gli diciamo è quella che abbiamo visto prima gli diciamo che questa è un texture ma che noi usiamo come maschera facciamo l'upload quindi lui se la tira su spiega il suo solito tempo quindi un pochino di pazienza ok una volta che ha tirato su questa la troviamo eccola qua specular map last quindi proviamo nel materiale ultimo che abbiamo fatto quindi lo dunque abbiamo materiale luna 3 questo facciamo edit proviamo a cambiargli vedete che adesso è fatto così gli cambiamo la maschera non ce l'ha qua gli possiamo mettere qui abbiamo questa vedete che è il contrario di questa quindi proviamo a metterci questa vedete che riflette le parti nere della maschera ma se gli diciamo invece di usare questa ecco dovrebbe risultare leggermente meglio dunque vediamo maschera rossa gli mettiamo di nuovo il link direi di no ok comunque diciamo che la teoria dovrebbe essere questa quella di fargli arrivare la maschera e un po' se l'effetto nel senso se la giriamo no beh sullo specular map devo approfondire meglio per ottenere l'effetto che vogliamo ok tornando invece però sul gimp sul gimp abbiamo detto che abbiamo questo nel normal maps abbiamo il normal map il quello che ci permetteva di ottenere la normal map magari si può fare soltanto sull'immagine originale quindi filter map gimp normal map ok allora questa cosa qua di default non ce l'avete quindi dovete andarvela a trovare cercando gimp normal map vi scaricate un oggetto uno zip lo zip una volta aperto ha al suo interno ecco io di solito mi sono scaricato la versione a 32 che ho visto essere preferibile mi arrivano un tot di file dentro readme c'è scritto come installarli quindi bisogna prendere il normal map .exe e metterlo sotto cprogramfiles gimp2 e via discorrendo dove sono i plug-ins nel caso di windows 7 va installato sotto programfiles 86 infatti se vediamo qui noi siamo no qui siamo nella versione normale dove abbiamo installato comunque voi dovete andare a cercarvi dove si è installato gimp e lì vi installate quindi di solito in windows 7 se si installa sotto programfiles è a 64 bit e se programfiles x86 è a 32 bit mi sembra di aver fatto un po' di prove e di aver visto che comunque la versione giusta che serviva a me era quella 32 bit e poi dice di prendere praticamente quel file e metterlo lì il file normal map.exe e metterlo sotto plugins e di mettere tutte le dll residui quindi 1, 2, 3 le mettete sotto la bin a questo punto se avete installato correttamente sotto gimp quando aprirete un'immagine di questo tipo vi apparirà map come vi ho visto prima e poi la possibilità di fare il normal map allora direi che questo è tutto per l'incontro di stasera quindi ci sentiamo la prossima volta buonasera